Prestiti record all'impresa e conferma del super bonus 110% e altre risorse in arrivo. Sono questi i temi trattati nell'incontro sulla ricostruzione post-sisma del centro Italia che si è tenuta a Roma nella sede del Lance. Un'occasione di confronto tra imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del settore creditizio e professionisti nel corso della quale sono emersi dati significativi sulla rinascita del territorio del cratere. A luglio è stata erogata da Cassa, Depositi e Prestiti alle imprese che operano nella ricostruzione privata la cifra record di oltre 131 milioni di euro. Il dato sale a 611 milioni se si considera il primo semestre del 2023 con un più 22% rispetto al 2022. Altro fattore di grande impatto è stato il prolungamento nelle regioni del cratere del super bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 grazie al decreto ricostruzione adottato dal governo con conseguente conferma della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura. Nel corso dell'anno ho concentrato la mia azione della direzione della semplificazione ad ampio spettro per il mantenimento del super bonus insieme al contributo sisma al fine di accrescere la possibilità di spesa. Sono queste le parole usate dal commissario per la ricostruzione Guido Castelli nuove linee guida per regolamentare il rapporto tra 110 e il contributo sisma supportando le stazioni appaltanti pubbliche ancora attraverso atti tipo aggiornamenti del protocollo dell'ANAC e programmazione delle scadenze. Le prospettive ulteriormente incoraggianti per le opere pubbliche da qui al prossimo anno saranno liberate risorse ingenti. Soltanto le ordinanze 137 e 129 riguardano 1,1 miliardi di euro.